Mi racconto di raggiungere 30.000 like se volete 100 strati di rossetto Ovio a tutti ragazzi e ragazzi, io sono Steve e oggi siamo qui tornati con un nuovissimo e fantastico video Io e la mia pelata, oggi siamo qui per presentarvi di nuovo una tipologia di video che portai in passato E che soltanto adesso mi sono accorta di quanto questa più dosir visere vi piacqua Vi piacqua, vi piacquerebbe, vi piazza In tutto ciò però vi ricordo assolutamente di andare a ordinare il mio fantastico libro dove farci una medaglia Che nessuno mi passa neanche il libro Mi raccomando ragazzi, lo trovate su Amazon oppure in tutti quanti i libri d'Italia Acquistate, link invio A parte il momento spam che non è ancora terminato Vi ricordo una tappa del tour del firmacopie Che sarà sabato 24 marzo dalle ore 16.30 al centro commerciale Casilino qui a Roma Quindi mi raccomando rispondete al mio commento che è fissato qui sotto in alto Qui sotto in alto Rispondendomi se ci sarete o meno al fantastico firmacopie del libro di Sivi Snowy A parte il momento spam, oggi sono qui ragazzi con un video wow Un video wow che molti mi hanno chiesto su Instagram veramente veramente in tantissimi Ho acquistato questi due trucchi In uno c'è il mascara e in uno c'è il fantastico rossetto Oggi sono qui per registrare il video dove mi metto 100 strati di mascara Se questo video raggiunge i 30.000 like andrò a fare il video dove mi spalmo 100 strati di rossetto Se no niente eh Se no le faccio della medaglia che viene a cerca a casa Oggi siamo qui con il nostro fantastico mascarino Che andremo a spalmarci su entrambi gli occhi E adesso ragazzi niente Mi raccomando lasciate un bel pollice in su per sostenere questa serie Per sostenere le mie povere ciglia che dopo questa challenge mi cadranno Cominciamo subito Questo è un video di make up Guardate il prodotto Wow fantastico Ci dovrei specificare che questo non è un video sponsorizzazione A nessuna marca di nessun prodotto Infatti posso tranquillamente dire che questa mascara fa schifo Poi adesso andremo a vedere Ok io sono prontissima ad andare a cominciare immediatamente a spalmare tutti quanti gli strati Quindi ragazzi fa 3, 2, 1 e la sfida è iniziata Allora Primo strato Fantastico Allora io ci dovrei specificare ragazzi Che io sono esattamente quel tipo di ragazza che non si trucca mai Se si trucca si trucca veramente con cose banali Tipo mascara, eyeliner e un po' di fondotinta Niente di così elaborato o così complicato Quindi ci terrei a specificare tutte quante le make up artists che mi stanno guardando Chiudete e tappatevi gli occhi e chiudetevi le orecchie Perché ragazzi il modo in cui mi trucco io è un modo speciale che ho inventato io Ok secondo strato di mascaretto Già le ciglia non ce la fanno più Già mi stanno esplodendo Yeah grazie Grazie trucco che mi aiuterà a essere ancora più fantastica di prima Massimo che metto di mascara Saranno 3 strati Questo ragazzi è già il quarto Porca miseria Già mi stanno esplodendo gli occhi Io mi immagino a 100 A parte che per fare questo video ci metterò 8 anni Però devo dire 4 strati ragazzi è veramente veramente carino C'è tanto che veramente si mette così tanti strati di mascara Oh mio dio ragazzi Oh mio dio Questo è solo ottavo Oh mio dio Decimo strato Mi mancano ancora 90 strati Ragazzi non so se ce la farò a finire questa challenge E' il pazzo che si mette 12 strati di mascara Sono io Cioè ragazzi non so se riuscite a vedere Che i miei occhi non sono più occhi Oh mio dio Oh mio dio 20 No ragazzi Sono tutte appiccicose Oh mio dio I miei poveri occhi Ti pare che mi sono sporcata Quello che si può tagliare 20 20 20 20 20 20 20 20 a 30 adesso sono 30 ragazzi mi sta implodendo l'occhio ma che cos'è ragazzi ma sembra un filmorlo ah continuiamo sono tutte appiccicate poverine ragazzi non so se voi riuscite a vedere il fatto che le mie sovraggine vabbè sono stupida che le mie sciglia sono tutte completamente appiccicate c'è ah 34 ah madonna dentro non so che siamo a 37 strati quante ragazzette si truccano e quante di voi diciamo più o meno nella vostra vita quanto quanti 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 passati di mascare di mai fatto come massimo 38 madonna perché mi prendo vabbè basta 39 40 a parte il fatto ragazzi che io non mi sappia mettere minimamente il mascara ma più che altro così tanto mascara ma che cazzo 41 42 49 39 e 50 50 ragazzi 50 cioè sono ancora a metà e in tutto ciò vi ricordo di acquistare il mio fantastico link pro trovate il link qui sotto alla descrizione e vedete qua la CV a questa pone eccola e 60 60 ragazzi mi stanno implodendo le ciglia ragazzi ora ragazzi si va un pochino più veloci 70 70 70 70 70 80 80 80 80 strade di mascare 80 strati di mascara 80 strade di mascara 90 strati di Mascara 90 Adesso facciamo le ultime 10 1 92 93 94 95 96 97 Non ci credo 98 99 100 100 strati Di mascara 100 strati di mascara Chi cavolo è ragazzi che si mette 100 strati di mascara Ragazzi Dopo 100 strati di mascara Io vi chiedo la cortesia di andare in libreria Ad acquistare il mio Non so Non posso nemmeno prenderlo Le due facce del metallo Potete ordinare il link che sta qui sotto in bio Oppure andare a comprare direttamente in libreria Dopo che ho fatto tutto questo ragazzi È il minimo che potete fare per me Mi raccomando di raggiungere 30.000 like Se volete 100 strati di rossetto 100 strati di questo 100 strati di questo Comunque ragazzi Io spero che questo video in qualche modo vi sia piaciuto Le mie città stanno esplodendo Io vi chiedo alla cortesia di non rifare tutto ciò a casa Poi devo trovare un metodo per levarmi tutto questo schifo della faccia Mi raccomando rispondete al commento che è fissato qui sotto nella sezione commenti Per farmi sapere se ci sarete È il mio fantastico firma copia Che si terrà a Roma Al centro commerciale Casilino Sabato 24 marzo Dalle 16.30 in poi Detto questo mi raccomando Fotologami su tutti i miei social network In questo tanto iscrizione Se non siete iscriviti, iscriviti, iscriviti E niente ragazzi Ma già Vediamo questo video Le mie ciglia stanno esplodendo A presto Ciao belli Ciao 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 Un bacione Ciao Tante ciglia per voi Ciao